Maxi sequestro delle fiamme gialle in Versilia di oltre 50 milioni di prodotti da fumo. Denunciati due cittadini italiani sprovvisti di qualunque autorizzazione alla vendita. I finanzieri del comando provinciale di Lucca hanno individuato un magazzino all'interno del quale era stato creato un vero e proprio deposito illegale di prodotti da fumo, milioni di pezzi, tra sigarette elettroniche, cartine e filtri pronti per essere immessi in commercio. Ad attirare l'attenzione delle fiamme gialle sono state le numerose segnalazioni sulla presenza di vendite online di sigarette elettroniche e ricariche nella zona della Versilia. Le indagini hanno identificato il promotore dell'e-commerce e accertato che fosse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Nel corso delle operazioni è stato pertanto individuato il magazzino e tutto il materiale, è stato sottoposto a sequestro e sono stati segnalati alla procura della Repubblica di Lucca due soggetti italiani gestori dell'attività illecita.